La Spagna è sulla strada per la ripresa e i segnali positivi ci sono. Parola di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che ha tornato anche a parlare dell'euro. Verificheremo, ha detto, se l'aumento di valore avrà un impatto sulla stabilità dei prezzi. L'occasione per fare il punto sul risanamento finanziario in Spagna è stata la sua visita al Parlamento di Madrid. La situazione economica e quella sociale sono difficili e per le persone non è un buon periodo, ammette. Ma ho anche detto che la Spagna è sul binario giusto e che oggi le banche spagnole hanno dei bilanci molto più sani. Oggi il paese ha quello che è probabilmente il più avanzato sistema di ripresa e risoluzione dei problemi per le banche dell'area euro. Proprio gli istituti di credito erano finiti dopo la bolla immobiliare al centro dell'occhio del ciclone. Il dissesto finanziario aveva costretto a richiederne il salvamento di un vattaggio in cambio però dell'impegno a ristrutturare, i vi compresi migliaia di licenziamenti. La cura funziona per Draghi, che ha lodato anche la ripresa delle esportazioni, la riduzione del deficit e l'aumento della competitività. Ruolo importante per quest'ultima ha avuto anche la riforma del mercato del lavoro. Un chiaro miglioramento in termini di flessibilità, anche se, ha ricordato il governatore, sono tanti ragazzi ancora senza lavoro. In Spagna il tasso di disoccupazione giovanile è quasi al 60%. Grazie per la visione! Grazie per la visione!